Si è notata una cosa interessante, e cioè che il corridoio finestrato conduceva dall'edificio scomparso fino all'Arx, dove c'era la zecca, e dunque questo probabilmente fungeva da passaggio coperto per trasportare in tutta sicurezza il denaro fino all'erario. Tutti gli edifici che ho nominato, che si trovano alle pendici del Campidoglio e sono sovrastati dal tabularium, sono all'interno del foro romano, e quindi li vedremo quando parleremo di questa zona. Intanto, qui nella terza immagine, li potete vedere ricostruiti, il tabularium, il Tempio di Saturno, che nasconde alla vista il portico degli Dei Consenti, il Tempio di Vespasiano, e il Tempio della Concordia. Davanti è l'arco di Settimio Severo. Se andate a visitare i musei capitolini è possibile arrivare all'interno del tabularium e vi consiglio davvero di affacciarvi da lì, perché la visione del foro da quella posizione è davvero un grande spettacolo. Vediamo ora il Tempio di Veiove. L'angolo sud-occidentale del tabularium descrive una rientranza, dovuta alla necessità di rispettare il più antico Tempio di Veiove. Questa zona e i resti del Tempio sono visibili dietro una vetrata nei sotterranei del Palazzo senatorio. Questo Tempio fu scoperto nel 1939. Veiove è un dio giovane del mondo infero, un dio della vendetta, distruttivo, che forse era di origine etrusca. Secondo un'etimologia, il nome formato da Ve e Iovis indicherebbe il Giove infernale. Tornando al Tempio, sappiamo che esso fu dedicato nel 192 a.C. E' visibile il rifacimento della metà del II secolo a.C., ma l'edificio attuale è probabilmente contemporaneo al tabularium, quindi è datato 78 a.C. E' presente a ristauri in mattoni dell'età di Domiziano, dunque sono certamente dovuti all'incendio dell'80 d.C. La forma del Tempio è particolare perché è dovuta probabilmente alla ristrettezza dello spazio a disposizione. Infatti la cella è più larga che profonda. Ed è una caratteristica che vedremo anche nel Tempio della Concordia, dovuto allo stesso motivo. Il podio è in travertino, quindi la pietra calcarea sedimentare è stratta a Tivoli. Il pronao è preceduto da una scalinata e ha quattro colonne. Sul pavimento del pronao è ancora visibile una piccola ara di marmo. Vicino al Tempio, nella galleria trasversale del tabularium, è oggi conservata la grande statua di culto, priva della testa e delle mani con gli attributi, che è datata all'età tardo-repubblicana o all'età Flavia. Nella stessa galleria è conservato un grande frammento di architrave pertinente al Tempio di Vespasiano, che vedremo quando parleremo di questo Tempio. Ora vediamo la grande insula che si trova ai piedi della scalinata dell'Araceli. Allora, l'altra volta abbiamo parlato del problema della presenza delle case sul Campidoglio. Una delle insule attestate qui, e che è la più notevole per i resti che si sono conservati, si trovava ai piedi del colle e i suoi resti sono oggi visibili, come dicevo prima, ai piedi della scalinata dell'Araceli, tra queste e il Vittoriano. Il nome insula indica un palazzo popolare destinato ad ospitare in condizioni precarie numerose famiglie. Nel II secolo d.C. infatti comincia il fenomeno dell'edilizia intensiva, e le insule sono risultato di questo fenomeno, che si conosce molto bene ad Ostia. Normalmente queste insule erano costruite in mattoni, avevano tre o quattro piani, raggiungibili tramite una scala esterna, ed in particolare i piani superiori erano destinate alle famiglie più povere. Al pian terreno le insule ospitavano le taberne, cioè le botteghe. Anche in questa insula in particolare c'erano le taberne al pian terreno, che si aprivano su un cortile circondato da un portico a pilastri. Le taberne comunicavano direttamente con gli ambienti sovrastanti che costituivano il mezzanino, che aveva un pavimento di legno che naturalmente è ora scomparso. Di questa insula rimangono, oltre al pian terreno e al mezzanino, altri tre piani e tracce di un quarto, che forse in questo caso non era l'ultimo. Gli appartamenti avevano un gran numero di ambienti, illuminati da finestre rettangolari, che diventavano sempre più angusti man mano che si saliva i piani superiori, destinati, come detto prima, ai più poveri. Si è calcolato che questo edificio ospitasse 380 inquilini, dunque si possono certo immaginare le pessime condizioni di vita. Bene, con questa insula abbiamo terminato il Campidoglio, se volete saperne di più potete visitare la voce Insula della Racelli su Wikipedia. Dal momento che abbiamo parlato di insula, continuiamo il discorso sulle tipologie abitative, analizzando la Domus. La Domus, al contrario dell'insula, è una grande casa privata, autonoma e abitata da una sola famiglia. La sua forma si delinea durante l'età repubblicana e muta nel tempo, a seconda dei gusti. In questo senso il II secolo a.C. è un momento di svolta, a causa del gusto ellenizzante che dilaga a Roma. Le Domus si trovano in gran numero in tutti i centri abitati, ma lo studio dell'evoluzione di questa tipologia architettonica è stato possibile grazie a Pompei ed Ercolano, dove la tragica eruzione del 79 d.C. ha cristallizzato la situazione urbanistica, trasmettendoci la storia degli edifici dal IV secolo a.C. fino appunto al I secolo d.C. Vediamo ora la struttura delle Domus. La prima esigenza di un romano era quella di separare gli ambienti pubblici da quelli privati, per cui le mura avevano poche piccole finestre e gli ambienti prendevano luce dall'atrio o dal giardino interno, cioè l'ortus, presente nelle case più grandi. Gli ambienti esterni, che si affacciavano sulla strada e non comunicavano con l'abitazione centrale, erano adibite a botteghe. Nella casa vera e propria si entrava tramite l'ingresso, chiamato vestibulum, che era protetto dalle fauces, una solida porta a doppio battente, ed era di piccole dimensioni. Esso, tramite un corridoio, emetteva nell'atrium, un ambiente destinato ad accogliere gli ospiti, e per questa sua funzione di rappresentanza era uno degli ambienti più lussuosi della casa. Il tetto dell'atrium aveva un'apertura, detta compluvium, che faceva passare la luce, e in corrispondenza di questa apertura, sul pavimento si apriva una vasca per la raccolta dell'acqua piovana, chiamata impluvium. Intorno all'atrio si aprono le camere da letto, i cubicula, cubiculum al singolare, che erano piccole, anguste, oscure e arredate in modo semplice, poiché erano considerate semplici ambienti di servizio. All'atrium segue il tablinum, un salone privato e meno sontuoso, che il padrone di casa utilizzava come studio e archivio, e vi si custodivano le memorie familiari. Infatti i romani tenevano molto ai propri antenati. Poi la Domus aveva una sala da pranzo, o anche più di una, chiamata triclinium, dai tre letti sui quali ci si sdraiava a mangiare alla maniera greca. Anche il triclinium era una stanza di rappresentanza, e per questo era decorata con cura, anche se non era particolarmente grande. A partire dal II secolo a.C., la moda greca impone alla Domus un nuovo elemento, cioè il peristilio, un portico colonnato interno che sfrutta l'ombra dell'ortus ed è impreziosito da statue, vasche, fontane, piante e alberi da frutto. Il II I secolo a.C. è dunque un momento in cui la vita dei romani si fa più lussuosa. La cultura romana subisce un mutamento profondo, come abbiamo più volte sottolineato, a causa dell'elenizzazione. Questo porta anche a un cambiamento dell'edilizia. Se prima le case, per ragioni moralistiche, erano semplici e modeste, ora arrivano a un lusso anche esagerato. Durante la tarda Repubblica, le Domus dei magistrati avevano grandi aree di rappresentanza, in cui accogliere riunioni di affari, comitati elettorali e quindi erano ambienti dove poter svolgere attività politiche e accogliere anche i vari clientes. Piccola parentesi, chi erano i clientes? Allora, a Roma vi era l'ordinamento gentilizio. L'agenza era costituita da gruppi di famiglie che riconoscevano un comune antenato, dal quale deriva il nome dei suoi membri, ad esempio c'è l'agenza Emilia, l'agenza Cornelia, eccetera, eccetera, e che praticavano culti comuni. È un discorso un po' lungo, semplificando, all'interno dell'agenz un individuo accoglieva altri individui esterni all'agenz, che ne diventavano subordinati ed erano chiamati clienti. Si stabiliva così un rapporto vincolante fra i clienti e il loro patrono, che li impegnava i reciproci obblighi, atti a sostenersi a vicenda, che potevano essere di ordine economico, giudiziario e militare e lavorativo solo nel caso del cliente verso il patrono. Il cliente non era necessariamente povero, perché anche lui poteva sostenere economicamente il patrono in caso di bisogno. Chiusa parentesi, vediamo velocemente alcune foto di Domus a Pompei.